Buongiorno amici e benvenuti in questo nuoooavo video. Mi stava cadendo il joystick, vabbè ... Oggi, giochiamo a Life is Strange! Ah, io ho tirato fuori il Natural Miss ma devo giocare a Life is Strange... Va beh apriamo l'Xbox, cioè non che apri, va poi! E fuuuu Quanto è l'ascolto di me fiato? You're scary Qua mi dice The Once Johansini visto l'ultima volta due giorni fa Io odio quando non funziona mai niente Ok ci siamo Life is Strange Via Grazie a tutti Oh Chloe Right on time for my art lesson Thanks for coming with me Sorry to be so boring Nothing exciting ever happens to us right? Listen Your rewind power has to be connected to that snow yesterday That might explain your tornado vision Spiegare cosa ne dubito Allora ne eravamo rimasti che abbiamo salvato Chloe dal treno E dovevamo andare a scuola perchè avevamo la lezione di arte Quindi lei in realtà non si rende conto che io sono tornata indietro nel tempo a 122 volte per salvarla Quindi spiegare cosa Che cosa sai Emma? Che cosa sai? Che cosa sai ecce Their words ..la Un super hero needs a sidekick. Come può essere una settimana stessa e ancora uno dei migliori della mia vita? Perché siamo in attenzione! Allora, possiamo fare un giro perché tanto... No, 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 no... Tutte pubblicità del Vortex Club. Yeah... No, no... No, no... No, no... No, no... Non posso parlare Con loro? Con Courtney Mi frega Cosa faccio? Cosa faccio? Devo se, Max. Non soire per te. Perché? Cosa faccio? Cosa faccio? Cosa faccio? V beginning Viz, ma Se, no Fotos No Quiero No Vi Viz 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 Non tagliarti i farinici che è parte extravolo personalmente Finalmente posso andare alla pista Oh, parliamo con lui Ha colpito Chloe? Non credo Se dico che ha colpito Chloe Pensa che io ero là come in realtà ero là Quindi non credo E gliel'ha detto lo stesso? Ha certamente male Kate, che problema ha con Kate? Cosa vuole da Kate? Cosa vuole da Kate? Cosa vuole da Rachel Amber che non c'è nessuno? Non voglio combattarti con te più Non voglio combattarti con nessuno più Che stronti, secondo me non c'è qualcosa Che stronti, secondo me non c'è qualcosa Cosa vuole da Kate? Cosa vuole da Kate? Cosa vuole? Cosa vuole da Kate? Cosa vuole? No Cosa vuole? Non c'è questa? Sì questa è questa? È questa? come faccio a sapere se non so come faccio a sapere se non so cosa sta facendo non lo so ora esplode tutto devo tornare indietro molto potasio no non quindi posso andare parliamo con la propria che petizione? esperimento petizione esperimento che no 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 troppo 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 basta troppo troppo po troppo 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 io E' anche se fosse un po' Ok 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 Adesso non ho lezioni, cioè sono andato a scuola un'ora prima, come capire. Parliamo prima. No, Max will smart. Talk later, cool? Ok. Do you leave me, so you can't help me? I'm trying, but you have to understand my position. Why? You don't understand mine. Cause I'm a bitching, they're going to sit together. Sorry to bother you, Mr. Jefferson. I'm only bothered when you avoid turning in photos, but you know this. So what can I do for you, Max? Just between you and me? I'm worried about Kate Marsh. That's no secret. Word on the street is that you and Kate had a little confrontation with our security chief yesterday. David Madsen, non importa. David Madsen. I stepped in between David Madsen, barking all up in Kate's face about something. She doesn't deserve that. Of course not. Mr. Madsen isn't the most gentle soul. Do you have proof he instigated the situation? My word isn't good enough? But one time I choose not to take a picture. Always take the shot. My number one rule of photography. And Max? I promise this matter is being discussed by the faculty. I assume you know about this viral video? Everybody knows that Kate is scared. Everybody knows. Everybody knows. That's why I wanted to see you. Kate is being humiliated daily. What if Kate brought this on herself? She means well, but maybe she does protest too much. She seems like she's holding back the truth. Have you talked to her? Have you talked to her? Yes, I talked to her on the phone today. She needs friends and support now. I just don't want Kate Marsh to become the next Rachel Amber. Rachel Amber? What does she have to do with Kate? With all her missing persons posters around, it's hard not to think of her. Rachel was nothing like Kate. The principal Wells said you had something on your mind you wouldn't tell him. You care to share? Nathan has a pistol, but not now. All right, I don't know if it's too late or not. I'm going to give her a lot. So, I would like to ask her a lot. I don't know what to do now. facciamo così, io lo lascio qui in stand by, lascio a voi la decisione. Mi raccomando, se vi è piaciuto questo video lasciate un like, commentate, condividete, seguitemi sui social io vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti. Grazie a tutti.